Questo è il cuore della pinetina di Vallevò. Questa pineta è stata piantata tantissimi anni fa dalle ferrovie dello Stato per proteggere la costa. La prevenzione, la prima cosa, abbiamo Orlando Volpe che proprio ieri dalle 6 alle 13.30 con l'associazione Nuovo Senso Civico ha realizzato un'opera di pulizia. Sì, è il secondo intervento che abbiamo realizzato in un mese, il 10 luglio e il 1 agosto con il contributo fondamentale dei cittadini di Rocca San Giovanni e dell'associazione Rocca San Giovanni con il beneplacido del gruppo Carabinieri Forostali di Chieri e con l'autorizzazione del comune di Rocca San Giovanni. Qui abbiamo la prova che la parte che abbiamo difeso, cercato di tutelare, non è stata aggredita dalle fiamme. Tutta la parte a sud invece purtroppo è andata in rovina totale. E quindi il discorso della prevenzione, al di là del fatto che questi fenomeni si ripetono e si ripeteranno ancora, è fondamentale. E questa è la cosa fondamentale. Le regioni, le province, i comuni devono fare di tutto per evitare queste catastrofi. Alessandro Lanci, di Nuovo Senso Civico, intanto le ringraziamo perché alcune immagini che stiamo mostrando le ha realizzate proprio lei. Cosa ci potrebbe essere dietro tutta questa tragedia? A parte la follia di qualche pazzo criminale, ma c'è sicuramente un'architettura per chi vuole compromettere lo sviluppo turistico di questo territorio. I motivi sono molteplici, la speculazione di vizia, interessi proprio turistici di chi deve realizzare impianti che vanno in contrasto con lo sviluppo che questa regione, che questa provincia, che questo territorio ha previsto. E quindi crediamo che questo sia un disegno, un'architettura per compromettere tutto questo. Una ferita vedere questa pinettina così, vero? Signor Sorgini, lei abita qui vicino? Io abito qui vicino, è casa mia con altre case che stanno là vicino. L'abbiamo salvato per miracolo perché siamo andate 30-40 persone con i badili, io sono portato il trattore con la motopombo per spegnere, così non ha attraversato la strada e ci siamo salvati le case, se no non si sa cosa succedeva. Gianni Di Rito, sindaco di Locca San Giovanni, fino alle 2 di questa notte a seguire questa tragedia? Io questa mattina presto sono uscito e ho fatto un giro di ispezione praticamente sul mio territorio che è stato colpito, anzi devastato da questa tragedia e credimi ho trovato un'immagine spettrale, una pinettina che era il polmone del nostro territorio completamente bruciata, il pendio che scende verso il mare completamente bruciato. Io ho tante attività produttive tipo bar, ristoranti che veramente hanno corso un grosso pericolo, così come l'hanno corso anche gli abitanti del centro di Vallevò e anche quelli della Foce. Sono stato costretto a far sgomprare la Foce che in quel momento era pieno 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 di gente e così come per far sgomprare un camping che sta a ridosso. E ci siamo spostati a Fossacesia dove i segni delle fiamme di ieri ci sono, ben evidenti, c'è ancora qualche focolaio in lontananza che si vede. Sindaco Enrico Di Giuseppe Antonio, ieri ci sono stati anche momenti di tensione, ora ci troviamo qui alla stazione, ma c'è stato un po' di pericolo per l'autostrada, per le aziende. Momenti di sconforto, di difficoltà. Stava succedendo in Abruzzo incendi da tutte le parti. Si faceva fatica ad avere i vigili del fuoco. Ci sono stati momenti drammatici. Che cosa dire? Due cose semplicemente. Anzi, tre cose. Primo, bisogna fare in modo che nel codice penale la sanzione per chi mette fuoco sia più rigorosa e più severa. La seconda questione. L'Abruzzo è una regione che deve essere tutelata. Bisogna rafforzare le caserme dei vigili del fuoco. Rafforzarle per quello che è successo ieri e per il pericolo che stavamo subendo e che stava subendo un'intera popolazione. E la terza questione, devo dire, forse ci dobbiamo mettere tutti d'accordo. Lo sfalcio delle erbe deve essere obbligatorio. Ogni comune, ogni ente, ogni forza dell'ordine deve intervenire per fare in modo che questa cosa venga controllata in maniera attenta e scrupolosa. Elevando sanzioni. Donato Di Campli, di Supporter Beach. Tanta paura l'abbiamo vista correre a spegnere le fiamme che avevano attaccato le sue palme. Sì, vabbè, sono stati momenti bruttissimi. Per fortuna com'è andata, però va bene così, dai. Poteva finire peggio, tutti stanno bene, le attività sono ricominciate. È stata una brutta esperienza.